Vedi, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Run per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e cockpit, valido solo per vetture in stock, con finanziamento e in matricolazione entro il 30 novembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it E torniamo ad Andrea Fassi. Come mettiamo in scena il gusto quando scriviamo un racconto, Andrea? C'è una premessa da fare perché io ho avuto la fortuna, grazie al lavoro che faccio, ovviamente di lavorare materie prime di ogni genere e di collaborare con cuochi chef più o meno conosciuti. Mi è capitato una volta di lavorare con questa chef, Cristina Bauerman, che ha una stella Michelin, che mi ha insegnato una cosa, che i piatti sono, i singoli piatti sono come racconti, la cena è come tutto un romanzo. E dicendomi questo mi ha fatto sorridere perché ha aggiunto che sia soltanto il piatto, che sia per tutta la cena, tu devi colpire subito chi va ad assaggiare il tuo piatto, come chi scrive deve subito colpire chi va a leggere il tuo racconto o il tuo romanzo. Questo per farlo, il punto che connette secondo me la scrittura al cibo, è che nel caso del gusto noi abbiamo tutti i cinque sensi attivi perché a incidere sul reale piacere che proviamo quando mangiamo un piatto non è solo la percezione del gusto in bocca, c'è la vista, la vista di come è impiantato un piatto, c'è il tatto, perché? Perché noi percepiamo grazie al tatto, la consistenza, la temperatura di un qualcosa che si assaggia, c'è l'olfatto perché il vero sapore, il vero aroma ci rimane in bocca quando deglutiamo e c'è anche l'udito perché immaginate raccontare, scrivere da un punto di vista di un fornaio che racconta come prepara il pane. È chiaro che sarà sicuramente capace a raccontare il suo pane, immaginate di utilizzare però dei sensi diversi da quelli che ci aspettiamo, immaginate iniziare a non vedere più questa pagnotta ma di sentire scrocchiare la crosta, sentire il rumore che fa quando la si morde, quando la si spezza, quando la si stringe, se la si bagna e una cosa molto importante nel gusto è far partecipare tutti e cinque sensi nella scrittura all'esperienza che si vuole far vivere e questo vale anche poi per i piatti, mi spiegava Cristina, perché poi nel gusto noi non è che mangiamo il pasta con il gusto, cioè non sentiamo solo il sapore, noi possiamo assaporare, quindi tra tenere in bocca a lungo un cibo o una bevanda, cercando determinate caratteristiche, possiamo gustare, quindi può piacerci o meno, possiamo assaggiare perché abbiamo magari paura di ciò che andiamo ad assaggiare perché è un qualcosa di nuovo, adesso vogliono anche inserire farine particolari, un tipo di cibo a cui noi non siamo abituati, in realtà va assaggiato perché è come leggere un racconto che non ci va di leggere, che bisogna un po' conoscere quello che ci è lontano e poi si sente, perché alla fine di tutto questo percorso tra piatti che sono piccoli racconti e un mega romanzo che è una cena, la cosa vera che ci rimane è quello che ci ha lasciato l'esperienza del gusto che abbiamo provato mangiando tutti questi piatti come leggendo un racconto, per metterlo in scena la cosa che io consiglio sempre è di non fermarsi soltanto sui sapori, cioè di iniziare a girare intorno a una scena che abbia come centro appunto uno scambio, un dialogo piuttosto che una descrizione di un piatto o di un gelato o di un dolce utilizzando più di un senso, magari non più di due o tre, perché alla fine diventa una cozzaglia di sensi, ma con più di un senso noi riusciamo a descrivere davvero cosa percepiamo di quel piatto e credo sia l'unico consiglio che mi permetto di dare, anche perché poi, e torno a quello che dicevo all'inizio, la vera esperienza la si fa annotandosi, non per forza con un taccuino sensoriale, anche con la propria memoria, cercando di cogliere davvero il racconto che c'è all'interno del piatto, come molti cuochi provano a fare, ma anche gelatieri o pasticceri, non è soltanto il gusto delle materie prime messe insieme, come fossero parole buttate lì in mezzo, è quello che uno vuole comunicare con un prodotto e quindi con un racconto. Secondo me il gusto è ciò che di più bello ci sia tra scrittura e letteratura, probabilmente perché è quello che mi piace di più. Ma concludo, c'è un racconto bellissimo che probabilmente su internet lo trovate, che si chiama Il tavolo peggiore del sabato sera della OTS, che è una scrittrice meravigliosa anche perché scrive di pugilato che a me piace e a un modo di mettere in scena le sensazioni, le percezioni sensoriali, secondo me è molto molto valido e c'è da dire che questo racconto di questi amici che sono a un tavolo sbagliato perché gli viene cambiato il tavolo all'ultimo momento e vengono messi davanti a una vetrata dove percepiscono, intravedono una situazione che non si capisce bene cosa sia, sembra guerra, povertà, mentre loro mangiano questa cena suntuosa, è meravigliosa. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.